ciao ragazzi benvenuti sul mio canale anzi bentornati se ci siete tornati se siete tornati sono benvenuti allora ottieni che cazzo ho le cuffie a steppe ok allora bene allora cosa abbiamo qui cosa abbiamo qui abbiamo sete di vendetta dov'è da fare sta questo i mortacci miei non ci vado lì devo andare qua non guarda speciale andiamo a vedere se no vediamo un po missioni nella zona di qua proviamo a vedere qua che cos'era questa mi sono già svanito cazzo dove andrà la giuda ho capito c'è una specie di portale portale c'è una zona di confine un cancello un cancello c'è quattro tocchi di legno beh ah qui non posso passare ma roba da ma che cazzo evochiamo allora vediamo un po spirito del fuoco a livello 3 questi qua sono a livello 1 io evocherei il mio spiritallo del fuoco bravo 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 vieni con me che andiamo a fare una missione oh cosa c'è destino destino lì raccogliamo un po' di farlo bene bene allora questo che dice allora intanto vediamo qua se parlate con destino cosa posso fare per voi non lo so se non me lo dici tu in questo continuate ad ascoltare una porzione di trasformazione ai 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 allora siate prudente cosa posso fare con voi non ho letto qua c'è da leggere è bello vedere un po' di amico dopo che il piano non ha finito un momento dell'odio va tuttavia non sappiamo quanto odio si sono procurati ok in più il fatto che possieda ancora l'odio è un grosso problema bene allora e crarsi da nulla non lo posso dobbiamo spiare quel posto ok ho capito già ci aiuterete ma fate attenzione ho preparato qualcosa per voi una pozione di trasformazione bevetela davanti alla porta davanti posto e trasformate con il vostro nuovo aspetto esplorate a fondo davanti posto scoprite quindi tornate qui ok allora penso che questo lo devo mandare via perché altrimenti mi fanno poi poi la pozione se attiva no no che cazzo scusa la devo bere questi mi fanno culo eh sì che mi fanno culo allora scusa eh perché o sono scemo io allora utilizzate la pozione in una linea all'ingrazo dell'avamposto cerca e l'avamposto è qua ecco cosa faccio? devo avanzare le guardie? non potete utilizzare non potete utilizzare va bene ho capito allora comando atteggiamento girato tanto lo facciamo attaccare a tutti poi sss diamo una legnata anche a lui che vuoi? in uso penso a te ah ma non devi entrare pensavo che dovevo andare a esplorare tipo alla warcraft quando ti trasformavi che entrabbi negli avamposti nei minucci è bello però eh fatta? quindi ce ne possiamo andare questi se le suonano qui dovreste essere prudente no terminata la conversazione ce n'è un'altra da fare eliminate i soldati e procuratevi gli indizi del soldato Tursi quindi andate lavavano un po' su dei Tursi e parlate con ribano andiamo ah cazzo devo tornare dentro va bene andiamo dentro eliminati i soldati questo è bello e i soldati dove suonano? ci sono le guardie guardiano Tursi andiamo un po' obiettivo sembrano doniamo spirit e attaccare mmm chi è questo? ah mi sembra era il mio co ma perchè ci fanno quella riga rossa io? la riga dell'energia qui così rossa non ci sono abituato perchè giocando a warcraft quando vedevo la linea rossa vuol dire che era un nemico ok questo oggetto non è idoneo ok eeeh no non voglio accettare perchè io adesso stacco cos'è che devo fare qua? allora come si cura più ripristino alimentare ok e ora mi ripristino io ok c'è un po' comanda ma lo stesso attacchiamo questo oggetto non è idoneo indagino 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 oggetto sbagliato ok ok speramento affinato guardia ma devi ammazzarli tutti qua come è la storia eh si l'hanno ammazzati tutti e io ah ecco vediamo un po' allora cassa di materiali non la posso prendere non la posso prendere ancora un aumento affinato ah ok me ne servono ancora tre vediamo se spuntano di nuovo posso anche vedere se ce ne sono qua guardiano questo è 16 proviamo a dargli due legnate oggetto sbagliato bene ce ne manca ancora due mi allontano un po' benissimo ce ne manca ancora uno ma io non andrei lì perché sennò mi fanno il culo perché sono introtti e quindi ce ne andiamo indietro se troviamo qualche stronzo qua no ok qua ne abbiamo uno questo oggetto è sbagliato bene abbiamo finito la quest la missione vedo un cazzo bene ho la luce dietro che mi dà sul sullo schermo del monitor che è leggermente satinato cose strane eroe eroe di caccia eroe di caccia quindi andate quindi andate andate a un posto lì pur si imparate con riba non che non è qua naturalmente vedi io subito ho fatto la mia minchiata dove sta questo e buonanotte dovevo tornare indietro vabbè ragazzi la quest è finita qui poi la consegnerò anche perché non ha molto tempo tra poco saremo al livello 21 perché siamo all'81% quasi di esperienza il gioco a me piace tanto e quando ho tempo mi ci metto non conosco bene tutto però vediamo qua gli sfiglia dettagli invita in gruppa ecco voglio guardare questo vabbè ferma lì ok vi ringrazio se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale ciao ragazzi alla prossima ciao